Le pillole della finanza in soldoni cercano di raccontare in modo leggero cose un po' noiose e complicate. Prendiamo spunto allora dalla vittoria dell'Italia agli europei per provare a fare un gioco, cioè usiamo delle metafore calcistiche per parlare di una corretta gestione del risparmio. I tre concetti che ci vogliamo portare a casa sono innanzitutto l'esistenza di eventi imprevedibili che possono necessariamente influire sul risultato, l'importanza di una strategia solida e di perseverare nel portarla avanti e da ultimo il ruolo fondamentale degli ingredienti dei giocatori che mettiamo in squadra per ottenere la vittoria. Partendo dalla partita di ieri vediamo che sostanzialmente l'imprevisto si è verificato all'inizio quindi l'Italia subisce un gol e questo avviene ordinariamente nella gestione del risparmio di tutti. C'è sempre una correzione, un evento imprevisto macroeconomico, microeconomico che influenza il nostro risultato e proprio perché non è possibile prevedere questi eventi la strada migliore per gestire l'incertezza è quella di avere una solida strategia e di portarla avanti come ha fatto l'allenatore della nostra nazionale che con forse un po' per chi magari non è esperto di sport come me attitudine forse un po' noiosa un po' ansiosa vedevamo sempre i passaggi che vanno indietro questa andare piano senza eccessi e con una perseveranza alla fine paga perché poi l'Italia ottiene il pareggio e poi arriva alla fine anche a quella che vedremo essere la lotteria dei rigori e quindi così come nel gioco nella vittoria della nazionale ha pagato una strategia solida senza deviare senza colpi di resta ma andando avanti sempre e quindi portando avanti questo atteggiamento affolto è un po' noioso anche nella gestione dei risparmi funziona esattamente così l'evento imprevisto può arrivare arriverà sempre è opportuno avere una strategia se vogliamo noiosa è la noia che sostanzialmente garantisce risultato e tant'è che Warren Buffett a chi gli chiede come lui ha raggiunto la sua ricchezza operando su titoli pubblici e perché non fanno tutti come lui lui risponde perché nessuno vuole arricchirsi lentamente dunque così come ha fatto Mancini anche i nostri risparmiatori dovrebbero avere un piano regolare mensile fatto di piccoli investimenti di dedicare ogni intervallo temporale possibile una piccola parte del proprio risparmio a un investimento allocarlo in maniera equilibrata in un portafoglio che sia ben diversificato e questa cosa ci porta nel lungo termine a vincere perché ci fa beneficiare delle parti positive di crescita dei mercati senza essere eccessivamente penalizzati dai momenti negativi dunque quello che ha funzionato con l'Italia questa strategia noiosa funziona anche nella gestione del risparmio per quanto possa essere noioso non si vince non si diventa ricchi con il super colpo di fortuna con l'informazione riservata o con battendo i mercati prevedendo l'imprevedibile nessuno prevede l'imprevedibile i migliori risultati per i risparmiatori normali nella stragrande maggioranza dei casi si ottengono con una strategia noiosa con la scelta semplice di fare piccoli investimenti quindi di allocare gradualmente il proprio risparmio nel tempo quindi di entrare gradualmente nei mercati e di avere un'allocazione solida e l'altra e ultima metafora interessante calcistica è che quando si arriva alla cosiddetta lotteria dei rigori quella che una volta ci insegnavano viene vinta grazie al caso grazie al fatto che sostanzialmente l'attaccante quello che ti batte il rigore sbaglia perché una volta si diceva che ai rigori vince la squadra diciamo grazie all'errore degli altri e invece l'Italia ci fa vedere il nostro ragazzone di Castellammare il nostro portiere fa la differenza ci fa vedere come alla fine a determinare il successo della squadra è proprio la capacità di un portiere di fare quello che secondo la vulgata non è pensabile cioè parare i rigori e questo che cosa ci dice ci dice che l'elemento più importante in una strategia di successo che perché un portafoglio di titoli è un po' come una squadra di calcio è nella scelta dei componenti dunque quel solo diciamo componente il portiere estremamente capace fa la differenza e regala alla nostra nazionale a noi il risultato parimenti nella scelta dei titoli è estremamente importante trovare appunto fare delle analisi approfondite e dedicare il massimo del tempo alla scelta delle componenti del portafoglio una scelta che deve essere equilibrata e una volta fatta questa scelta ci vuole la perseveranza di resistere alle tentazioni di entrare e uscire dai mercati di farsi scoraggiare dai gol subiti all'inizio della partita e perseverare andare avanti il che porta alla vittoria come è successo con la nostra nazionale per riepilogare esistono eventi imprevedibili e questi hanno necessariamente un'influenza sui risultati tanto delle squadre di calcio quanto dei portafogli in gestione il modo di gestire l'imprevedibile è quello di elaborare una strategia solida razionale e di portarla avanti e di fare in modo che questa strategia sia realizzata con degli ingredienti vari che possono essere i giocatori per una squadra di calcio o i titoli di un asset allocation questa era un'altra pillola della finanza in soldoni se vi è piaciuta potete mettere un like o iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima puntata ciao